La divisa deve mantenersi immacolata, essere sempre perfettamente sbarbata senza baffi, pizzetti, basette e tatuaggi. Una speciale attenzione dovrete averla per i vostri piedi che frequentemente faranno male. Non mettere mai le mani in tasca, non passarle mai nei capelli o metterle nel naso, non toccare il cibo con le mani. Piano, piano, piano. Rotteare, avvicinarsi con... Ascoltiamo se all'interno c'è qualcuno? Sì, abbiamo delle camere libere, ci sono delle suite. Togli la mano dalla tasca anche se non ti vede il cliente, non appoggiarti, sei lì per servirlo. Prego, cosa ha detto? Non ho capito. Sono delle suite disponibili o delle camere... Cos'è il prezzo di una suite?